Ciao a tutti da Valeria Il biopic Gotti ha un regista Meglia Vi dico tutto dopo il video Perché così non volano via? Vogliamo imparare a usare questa mano destra, Alice? Smettila subito, me ne vado e non torno mai più! Quando era piccola tutto era più facile Io non ti lascerò mai E tu non lascerai mai me A volte vengono degli strani rumori dal suo appartamento Dal mio appartamento, ne è sicura? Visto che lei non è chi, altri potrebbe essere Mi chiedevo se tu potessi tenere Julie con te Mentre io non ci sono Sarà un piacere Lo sai che Alice tiene una bambina Chiusa nella stanza delle farfalle? Io so che cosa ha fatto Sono venuta solo per sapere che succede con quella bambina Ma non la devi vedere più, va bene? Perché è una donna cattiva Julie! Solamente io posso darti tutto l'amore di cui hai bisogno Sto ampliando la mia collezione Tu non mi insegni come deve badare a mia figlia Io non lo sapevo Sta lontana da mio figlio Ma che cosa ha fatto? Lo so cosa sei capace di fare Fuori dalla mia stanza Mamma! 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 Joe Johnston dirigerà il biopic Gotti sul boss italo-americano, a darne la notizia The Hollywood Reporter. Il progetto che precedentemente aveva il titolo Gotti in the Shadow of My Father vede già impegnato John Travolta nel ruolo del protagonista, il boss mafioso italo-americano John Gotti. La sceneggiatura è scritta da Leo Rossi e Lem Dobbs, recentemente Johnston ha diretto per Marvel Studios Captain America The First Avenger. La produzione di Gotti ha programmato l'inizio delle riprese per il 9 settembre a New York. L'uscita al cinema invece è prevista per il 2014. Per oggi è tutto, iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sugli ultimi film in uscita. Ciao e alla prossima!